buongiorno è arrivato l'autunno e quando arriva l'autunno mi piace mangiare le vellutate light quindi senza soffritto molto molto leggere allora utilizzerò la zucca il filo la parte esterna del finocchio acqua un dado e poi a fine cottura frullerò tutto un giusto un cucchiaino di olio pepe e un cucchiaino di formaggio grattugiato molto light però è un comfort food poi con le bucce vedete la buccia della zucca farò delle chips le taglierò a pezzettini metterò sale pepe rosmarino giusto un cucchiaino d'olio in forno per 20 minuti e vengono fuori delle chips gustosissime perché io non butto niente aggiunto anche un po di sedano e una carota quando frullerò tutto nel piatto oltre al pepe al formaggio aggiungerò anche un cucchiaio di ceci le bucce di zucca ho messo sale pepe curcuma cloripiccante rosmarino adesso metto in forno per 20 minuti a 180 gradi queste sono le chips di buccia di zucca cotte vedete sono croccanti come patatine fritte